Quella condizionale, ma proprio una cosa di... Ma deve essere del mese scorso E lei va proprio lì a farsi dare la sua facciata sul Sevilla Ma sempre a feste, la mia professoressa Ti ricordo con chi eri in classe Tettino, te che domandavi mia, te che nabbi e basta No, per ora no Sì, diciamo No, io ho 12 anni, fino in terza e io ho 12 anni Fino in terza Guarda, se non facesse freddo ci faccio freddo Ma non mi sono ancora depilato No, 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 no Una selezetta E le rompe quello E le rompe quello E la faccia E la faccia E la faccia Perché la giovane E allora va a cagare Allora va a che te cagare La giovane la manda La manda Sì Vai Fede Che grande freddo Che grande freddo Non ho mai visto il Freddo Prima in Pop Sì Hai Freddo in Pop Non ho mai visto il Freddo Ah sì Perché non l'aveva visto lui prima No, no, no Non ho visto la squadra La scuola No Non ho visto Prendere i punti E allora per quella che era in 18 No, no, no Non guardiamo Però sì Ma ci siamo Perché non ho da uno in casa Che dovrà salire sulle uova Allora Vai al controllo Non sempre sfidare Sfidare sempre per colore Mi risulta che si sia messo di parte Sì, sì, sì Sfidare sempre per colore Sfidare sempre per colore Dai, dacci Ma poterà scrivere Poemi danteschi secondo A E comunque la finale vale No, no Dai Dagliela Dagliela Vai Bravo Usa una bella palla Una bella spessa Sfidare sempre Sfidare sempre Sfidare sempre Non c'è fuoco di gioco Sfidare sempre Sfidare sempre Se fossero sgammati Solo che Anche il fuma Non c'è a giocare a caccio Non è veramente Il fuma Non c'è Un clinsman, eh Un cavallone A velocità di fase Luca Sfidare sempre Sfidare sempre Sfidare sempre Occhio Cercate la palla i calciatori sono lì a tirarsi l'un altro a morte è nessuno che cerca la palla è un cuor di leone perché si tirano la maglia poi quando parte la palla gelato due tempi 2 3 3 4 5 3 5 6 6 7 Grazie. 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 Uuuuh! grazie 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 all'inizio anni 2000 la rosa-bastatina l'avevano proibita perché faceva adesso faccio la cavia è rosa-bastatina con ogni cara e dopo alla fine ti dai un muro per farti stare tranquillo e a Giovanna le aziende sono fantastiche e sei mettendo tutto quello dell'abbassamento secondo me è vero metti ordine metti ordine metti ordine vieni Mario vieni 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 ascolta vediamo se vediamo se vediamo se ci siamo dai 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 sei dai 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 lui bui sei bella vappe stavamo dicendo pari pünde Il cliente è molto importante. Fai il codo! Via, via! Pippi Nera! Buttati per terra! Dai, dai, dai! Poi, Patti! Siamo riusciti. Guarda, come si poteva annuncare questa roba qua? Errone, non li riconosco più. Dimmi di me. Non si può fare un'accelerata. Non, non, va bene. Ma non c'è. Ma ha spiegato Nicolò, ma questo. Quindi prendiamo qui. Se tu fai rimessa al fondo, non devi andare oltre la metà. No, no, no. Se ti arriva, se ti arriva, dai, matto a preparare metà. Oh, per la spiegare, fuori domanda. Non si può inviare… Grazie! Ho visto fare un triangolo. Non ci scuola. Il primo ha una squadra e poi l'altra squadra. Ho visto che è stato un minimo che si stava in una squadra. E'asanunghi! 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 Grazie. Grazie.